Salve unici appassionati di Football Manager, qui con me come sempre c'è Mac94 e ovviamente Football Manager d'Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2020 con il nostro mitico Spez e oggi andremo a vedere le partite con Pescara, Venezia, Cremonese e Frosinusne Ovviamente sempre gli highlights, sempre per il famoso problema che vi ho spiegato un po' di video fa Nella partita con il Salisburgo ho praticamente schierato tutte le riserve, abbiamo fatto parecchio schifo, abbiamo perso 4-1 Speriamo di fare decisamente meglio contro il Pescara Contro il Pescara giochiamo con Krapikas, Vitale, Magnani, Capradosso, Antonito, il nuovo acquisto in prestito Ovviamente Ericsson, Baker, Ricci di Gaudio, Ricci sempre è il buon più o meno Galabinov Il Pescara invece gioca con Fiorillo, Vettella, Scognamiglio, Drudi, Balzano, Masciangelo, Melengoni, Castano, Spalmiro, Borrelli e Tuminiello Con il Pescara non sarà facile, è comunque un'ottima squadra, dobbiamo dare il 110% Se vogliamo portare a casa i tre punti, c'è Ricci che la passa a Di Gaudio Ma vabbè questa azione dovrebbe sfumare, anzi la faccio sfumare direttamente io Andiamo al sedicesimo, Vitamina Vitale la passa a Di Gaudio Poi c'è Ericsson, Ricci, non la passa al fratellino ma ad Antonito Cross al centro c'è Di Gaudio che sfiora dopo 16 minuti il gol del possibile 1-0 Attacca però adesso il Pescara con Palmiero, cross al centro Borrelli Anche lui di poco alato, o meglio di poco sopra lo specchio della porta C'è Krapikas che passa la palla a Galabinov, c'è Ricci, uno dei due gemellini C'è Di Gaudio, qua Fiorillo fa un mezzo miracolo ma anche un mezzo pasticcio Perché poi si sta ributtando dentro il pallone Baker da calcio d'angolo, cross al centro c'è Magnani che sfiora anche lui di poco la porta Secondo tempo siamo al 45esimo, ovviamente appena iniziato c'è Bettella Però io direi di andare all'azione successiva visto che questa sfumerà 48esimo, Vitamina Vitale per Di Gaudio Di Gaudio si accentra passando alla Baker Poi c'è Galabinov, ancora Ricci, uno dei due gemellini La passa al fratello, dagli Ricci, Ricci per Antonito Ancora Ricci, cross al centro c'è Galabinov, non la prende, c'è Vitamina Vitale Che però non riesce a trovare lo specchio della porta Anche perché coperto da uno dei giocatori del Pescara C'è Baker che la passa al centro, c'è Bettella che spara fuori Ancora Baker, Antonito, ma credo sia fuori gioco per Baker 80esimo direttamente, partito abbastanza noiosa Attacchiamo ancora però, c'è Dabo, Dabo, ne ho entrato Ricci, la passa ad Antonito Antonito per Ricci, vuole il cross al centro Arriva il tap-in vincente di Galabinov Che mette il timbro sul cartellino Primo gol in serie B, 1-0 Spezia Però attacca dopo 8 minuti il Pescara C'è Galano che con una pirouetta voleva fregare Il Joan Ramos, non ci riesce E quindi il calcio d'angolo che lo batte proprio lui Cross al centro c'è Memo Shai, ancora Galano C'è Busellato, Scognamiglio Si difende al meglio questo Spezia C'è Drudi che vuole il cross al centro, non lo trova Masciangelo, Busellato, Castanos Ancora Memo Shai, vuole la botta, non la trova Finisce qui l'azione molto probabilmente Siamo all'89esimo Attacca ancora il Pescara che vuole cercare il gol del pareggio Dopo una partita comunque abbastanza scialba Da parte di entrambe le squadre Juan Ramos sulla sinistra Contropede dello Spezia C'è Ragusa che la passa da boh Serie di scambi C'è Ricci, la passa al fratello Ancora Ricci, fuori gioco Siamo al novantesimo Ancora l'azione del Pescara C'è Drudi, Balzano C'è Castanos Si accentra Castanos Vuole il passaggio per Masciangelo Masciangelo si accentra Busellato, Busellato viene fermato Ancora il Pescara Scognamiglio Capradossi Non mi veniva il nome Masciangelo Ancora il Pescara che attacca Serie di tap-in Tutti vincenti per il Pescara stesso C'è Masciangelo che la tira per fortuna fuori Siamo al novantaduesimo Il Pescara vuole sempre cercare E trovare il possibile gol del pareggio Ma per fortuna prendiamo noi palla C'è Ricci Per Ricci Ancora lui si accentra Qui un po' egoista Posseteva passarla a D'Abbou Al francese D'Abbou Ma così non avviene Fiorillo la spara in avanti C'è ancora D'Abbou Fresco Galabinov Dall'altra parte Nella terra di nessuno Siamo al novantatresimo In teoria ragazzi la partita è quasi finita C'è Balzano Balzano per Galano Galano Ancora Castanos C'è Balzano Ancora attacca il Pescara Vuole il gol dell'ultimo secondo C'è D'Abbou Che fa un fallo veramente molto stupido Qui rischia Non dico grosso Che non penso Un'espulsione Al massimo un'ammunizione Ma soprattutto rischia grosso Perché regala un calcio di punizione al Pescara L'ultimo secondo In una posizione molto ravvicinata Infatti c'è Scognamiglio Che cerca Il gol dell'ultimo secondo Ma per fortuna Fanno muro I nostri Difensori I nostri giocatori E quindi Dovrebbe finire qui Ancora Ragusa La spalla nella terra di nessuno Fischio finale E appunto Vinciamo 1-0 Vi faccio vedere D'epilogo Partita ripeto Abbastanza scialba Giocata sicuramente Alla pari Pescara 0 tiri in porta Addirittura Noi ben quattro Abbiamo segnato solamente Un gol Di Galabinov E direi che possiamo essere contenti Con il massimo Minimo sforzo Abbiamo ottenuto il massimo risultato Ecco Contro il Venezia Giochiamo con Capricas Warramos Magnani Capradossi Antonito Eriksson Anche perché Vignali Ancora infortunato Baker Ricci Di Gaudio Ricci E Galabinov Praticamente la solita Titolare Il Venezia invece Gioca con Lezzerini Ceccaroni Un nostro giocatore Che abbiamo in prestito Da loro Cremonesi Modolo Fiordaliso Vacca Fiordilino Zuculini Aramu Longo E Firenze Il Venezia Non sta facendo Un campionato Ottimale Insomma Iniziato abbastanza male Questo suo avvio Quindi sicuramente Possiamo fare bene Anche se non giochiamo in casa Dopo l'1 a 0 Col Pescara Sicuramente Mi aspetto Una prestazione Molto più convincente Da parte dei miei Perché così Col Pescara Abbiamo vinto Però Abbiamo giocato Abbastanza male Si è visto anche Dalle poche immagini Che avete visto Insomma Questo spezia Può dare Assolutamente di più C'è Antonito Sulla fascia destra Che passa a Baker Che cerca Il gol Dall'1 a 0 Ma c'è anche L'ottima parata Di Lezzerini Del portiere Del Venezia C'è Capradossi Capradossi Che la passa indietro Per Cap Capricas Tutti con la C Mi sto confondendo Capricas La spara in avanti C'è Ricci Ricci sulla destra Si è al centro Galabino Però la passa Fratellino Antonito C'è Baker Ricci Eriksson Eriksson Dall'altra parte Per Baker Baker per Di Gaudio Ancora Juan Ramos La passa al centro Per Baker Di Gaudio Si accentra Forse vuole il gol Ma non lo trova Perché trova La buona parata Di Lezzerini Anche se il suo tiro Era veramente Molto debole E centrale Ricci Tiene il pallone La passa Dall'altra parte A Di Gaudio Che dovrebbe cercare Il cross al centro C'è Ricci Il fratellino Ancora però La difesa del Venezia Fa muro E noi non riusciamo A trovare Il gol Del possibile vantaggio C'è Baker però Capradossi C'è Zuculini Forse il contropiede Dei padroni di casa La passa Dall'altra parte A Modolo Per fortuna però La nostra difesa Riesce a resistere C'è Ricci Ricci sulla destra Indietro per Capradossi O niente di fatto Un'azione praticamente inutile Fiordilino Da calcio d'angolo La cross al centro C'è Aramu In Venezia che attacca Zuculini Zuculini si accentra La passa dall'altra parte Per Fiordilino La cross al centro Bravo qui Capradossi Ricci indietro Ma non c'è nessuno Galabinov Non era sul pezzo Cremonesi Ancora Galabinov Che però cerca di recuperare Il pallone Non ci riesce però Vacca Vacca la passa A Fiordilino C'è Firenze sulla sinistra Firenze si accentra Tiro per fortuna Debole E Capricas Riesce a parare Senza alcun tipo di problema Siamo al 26esimo In questo momento Partita abbastanza Piena di azioni Anche se Nessuna veramente Molto pericolosa C'è Ricci sulla destra Che vuole il cross al centro C'è Galabinov 1-0 Di Galabinov Su assist Di Ricci Bravo qui Ricci Bravo qui Galabinov A trovare il tap in Vincente E l'1-0 Al 27esimo minuto Siamo al 41esimo Dopo un inizio di primo tempo Scoppiettante Una seconda metà Molto Noiosa Però c'è Baker Che Rianima Il pubblico Con un euro Goal Di sinistro E 2-0 Per lo Spezia Tanta tanta roba Secondo tempo Diciamo Siamo andati Negli spogliatoi Con un sontuoso vantaggio Con un importante 2-0 E adesso siamo al 50esimo Con ancora il possesso Del pallone Ve l'ho detto che il Venezia Viveva E vive un periodo Di difficoltà C'è Ricci C'è l'altro Ricci Il fratellino La passa a Baker Baker Che ha fatto un gol Incredibile Galabinov Che viene fermato Da Modolo Antonito Antonito ancora per Eriksen Ricci Ricci indietro per Capradossi Capradossi Tiene il pallone C'è Magnani La passa dall'altra parte A Di Gaudio Di Gaudio Per Guarramos Cerca ancora Di Gaudio Che si accentra Bravissimo Qui Lezzerini Bravo anche però Di Gaudio Che ha fatto Sicuramente Al 51esimo Un'ottima azione Baker ancora da calcio D'angolo Dall'altra parte C'è Magnani Penso che però Adesso è a breve Quest'azione Andrà a sfumare La stanno andando Un po' troppo Per le lunghe C'è Lezzerini Lezzerini ancora Galabinov In pressing C'è Firenze Infatti Andiamo avanti C'è Antonito Al 56esimo Ancora Antonito Antonito per Ricci Ricci per Baker Eriksson dall'altra parte Per Guarramos Guarramos La costa al centro Galabinov Però Non riesce a trovare Lo specchio della porta Subito 10 minuti dopo 66esimo Longhi Longhi Scusate Baker Baker dall'altra parte Per Ricci C'è al centro Galabinov Forse Adesso ci arriva però C'è Eriksson La passa Nessuno Voleva ripassare Credo a Galabinov Eriksson ancora C'è Antonito Antonito per Ricci Ricci ancora Eriksson Capratossi Lo spezia Minchia Quella era un'azione C'è qualcosa Che non va Cremonesi Aramu Aramu Porca miseria C'è All'86esimo Ancora sul 2-0 C'è Caroni C'è Caroni Cross al centro Guarramos La butta fuori Calcio d'ango Per il Venezia Che ha solamente 3 minuti Più recupero Per recuperare Due gol Però Aramu Di nuovo fermato E bloccato il suo tiro Dalla difesa Dello Spezia All'89esimo C'è Lezzerini Che la passa Vignali Vignali sulla destra Ancora Vignali La passa Dabou Dabou per Vignali C'è Ricci Ricci La passa indietro Per Baker Ancora Vignali Sulla fascia destra Vuole il cross al centro La passa indietro A Baker Che ci delizia Con un secondo Gol incredibile Al volo Dalmeno Circa 20-25 metri Tira una stecca Incredibile 3-0 Spezia E possiamo Ben capire Che i giochi Sono chiusi Infatti la partita Si concluderà Con questo bellissimo Gol 3-0 Molto importante Partita Stradominata Il Venezia Ha avuto sì Qualche Sussulto Qualche azione Pericolosa Ma niente di che Solamente Spezia Ottimo 2-0 Grande ragazzi Contro la Cremonese Giochiamo con Capricas Vitale Magnani Capradossi Antonito Mora Maggiore Ricci Un po' di turnovere A centro campo Unuvar Ricci E Galabino Mentre per quanto riguarda La Cremonese Vediamo Agazzi Migliore Clayton Terranova Zortea Kingsley Gustafson Valziana Gaetano Il grandissimo Palumbi E Selar Ho cambiato un po' Le impostazioni Ragazzi Andremo a vedere Solamente le azioni Chiave Anche perché Nella partita con Venezia Il gioco ci ha mostrato Delle azioni Praticamente inutili E niente Andiamoci a gustare Gli highlights Della partita Con la Cremonese Siamo già al Quattordicesimo Manuel Ragazzi Il pallone Il pallone a Ricci C'è Maggiore Galabinov Per Unuvar Si accentra Unuvar La passa a Ricci Il fratellino Centrocampista Assis di Unuvar Gol di Ricci Al quindicesimo Circa 1-0 Spezia Siamo addirittura E anche se per fortuna Siamo andati È molto bravo La passa A Krapikas Krapikas Di nuovo in avanti Dove c'è la torre No non c'è La passa Nella terra di nessuno Dove c'è invece Il migliore Però c'è Ricci La passa Unuvar Mamma mia ragazzi Ma che gol Che ha fatto Sto ragazzino Mamma mia È già È già un fenomeno Non è cresciuto Ma è già Un fenomeno Siamo al secondo tempo 2-0 Ma soprattutto Importantissimo Il gol Di Naci Unuvar E se non sbaglio È il primo In serie B Siamo su Appunto Stiamo vedendo L'attacca adesso Della Cremonese È bello il tiro Ma per fortuna A lato Va fuori C'è adesso Terra Nova Che la spara In avanti Dove c'è Palombino Palombetti Bravo qui Krapikas Palombi Si vuole far notare Dal suo vecchio mister Sta ancora facendo Benissimo In questa Cremonese Anche senza di noi Ma per fortuna Non ci ha segnato C'è Vitale Che la spara fuori Siamo al 57esimo Vitamina Vitale C'è Magnani Sulla sinistra La passa dall'altra parte Ad Antonito Ancora Vitamina Vitale La passa a Ricci 3-0 Secco Al 57esimo Partita Praticamente In ghiaccio E Altro 3-0 Altra prestazione Sontuosa Di questi ragazzi Infatti la partita Si addormenta Siamo qui adesso Già al 87esimo Il gioco Mi dà Praticamente Che questa è l'azione finale Non vi spoilerò nulla Potete ben capire Che comunque Lo Spezia Così come col Venezia Ha giocato Con grande superiorità Ha giocato Alla grande Sono molto molto contento Dei ragazzi E speriamo che Possano fare Sempre così bene Infatti la partita Credo sia finita C'è questa forse Ultima azione Della Cremonese Per fortuna Firmata da Magnani C'è Krapikas Che la spara in avanti La partita appunto Finisce qui 3-0 Come potete ben vedere Matteo Ricci Unuvar E Federico Ricci Ha segnato i due gemellini Ha segnato Il grande Unuvar Devo dire che Per quanto riguarda i tiri Siamo quasi alla pari Spezia e Cremonese Solo che I nostri tiri Sono stati sicuramente Molto più pericolosi E anche il possesso palla È stato maggiore Quindi Buon 3-0 Tanta tanta roba Siamo all'ultima partita Dell'episodio Sicuramente la partita Più difficile Con il Fresinone Giocava con Krapikas Vitale Magnani Capradossi Antonito Ericsson Baker Ricci Unuvar Ragazzi dopo il gol Non potevo non riconfermarlo Ricci E Galabino Mentre il Fresinone Gioca con Bardi Beghetto Crunch Ariaudo Brighetti Salvi Maiello Gorias Ardemanni E Ciano Così come la Cremonese Andremo a vedere direttamente Le azioni chiave Se no il gioco veramente Ci mostra delle immagini Completamente inutili Come già detto Il Fresinone È un'ottima squadra Che sicuramente Ci metterà in difficoltà Infatti al 36esimo Arriva Un ottimo tiro Di Ardemanni Che quasi sfiora il gol 39esimo Ciano Da calcio di punizione As Prima palo E poi purtroppo 1-0 Frosinone Male 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 Primo tempo Praticamente In sordina Non abbiamo fatto Noi nulla Il Frosinone È attaccato molto E poi appunto Dopo la bella azione Con Ardemanni Arriva il gol di As Siamo addirittura adesso Già al 65esimo Questo per farvi capire Come la difesa 3 Ci mette in grossa difficoltà E come Frosinone Abbia giocato Una partita Veramente ottima Infatti ci ha segnato Si è difesa alla grande E attacchiamo adesso Ho levato Naci Unuvarra Ho messo Di Gaudio Diciamo Ho putato tutto Sulla sua esperienza C'è Magnani C'è Vitamina Vitale Sulla fascia sinistra C'è Al centro C'è Galabinov Che però non riesce A trovare il gol Grazie anche alla parata Del portiere del Frosinone Siamo al 70esimo Ancora Galabinov C'è Antonito Però non riusciamo A fare molto C'è Baker Non trova la conclusione Ma anzi Un passaggio arretrato Per Magnani Ancora Vitamina Vitale C'è Di Gaudio Forse cerca il cross No la passo indietro Vitamina Ancora Di Gaudio C'è Baker Vitale Serie di passaggi Però per il momento Abbastanza inutili Palo di Galabinov Che sfiga ragazzi Ancora 1-0 Frosinone Ceciano da calcio di punizione Qui può anche trovare Il tap in vincente E infatti No Ragazzi no Un palo Sembrava gol Sembrava gol Ma invece Nulla di fatto E finisce qui la partita Ragazzi E purtroppo Insomma Non siamo riusciti A vincere Questa è la nostra Prima sconfitta E Col Frosinone Devo dire che Anche meritata Abbiamo giocato Veramente malissimo Devo vedere meglio Ragazzi Come mostrarvi Le immagini Perché in questo modo Neanche tanto mi piace Perché È tutto troppo veloce Diciamo che Come abbiamo visto Col Venezia È un po' troppo lungo Perché appunto Ci fa vedere Delle immagini Abbastanza inutili Con la Cremonese E il Frosinone È un po' troppi tagli Vedremo Insomma Cercherò di migliorare Anche questo fatto Diciamo che ci sono altri Due o tre video Che saranno così Poi per fortuna Spero di riuscire A tornare Alla normalità E comunque niente Arriva la prima sconfitta Che ci può Assolutamente stare Anche col Frosinone Insomma Ha giocato una buona partita Cosa che invece Noi abbiamo fatto E quindi niente ragazzi Dopo la sconfitta Ci salutiamo qui Nel prossimo episodio Andremo a vedere Tutto il mese di ottobre Praticamente ragazzi Facendovi vedere Solamente gli highlights Ho deciso di ridurre Un po' il numero di video E di farvi vedere In ogni episodio Un mese Quindi Oggi abbiamo visto settembre Nel prossimo episodio Andremo a vedere ottobre E poi in quello Ancora dopo novembre Poi dicembre E poi abbiamo finito Finalmente Faremo mercato E ritorneranno I video normali Detto questo Io direi che ci possiamo Salutare appunto qui Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre C'è un like Commentare Condividete Fate tutto ciò che vi pare Sempre grazie per tutto E come sempre Un saluto Micro94 E anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi